La figura umana ha trovato le sue divine proporzioni con Leonardo, l'uomo trova le confezioni ideali con marzotto. Semitorace meno semicintura è uguale a drop. Ogni persona è caratterizzata da un differente drop. Sulla base di questi differenti rapporti e proprio per soddisfarli vengono prodotte le confezioni marzotto dal drop perfetto. Non più abiti stretti. Non più abiti lunghi. Non più abiti corti. Le confezioni sono perfette con l'applicazione del drop. Sono confezioni marzotto. 921 persone su mille sono vestite dalle confezioni marzotto dal drop perfetto. Le confezioni marzotto sono prodotte con tessuti mech appositamente studiati e realizzati per le esigenze del mercato comune europeo.